cavolo così mi erano qua in serie A Io mi ricordo quando fece la prima partita all'Olimpico in Coppa Italia contro la Sampdoria Biarkud dopo 8 secondi fece un fallo da dietro a centrocampo proprio da una parte che non c'entrava niente infatti ero piccolo a 16 anni e mezzo infatti sono rimasto un po' perplesso perché avevo paura di trovare cavolo così mi erano qua in serie A che fino a un mese fa giocavo in primavera anche la prendevo botte però avevo un certo effetto è un po' di timore all'inizio Biarkud è stato un po' l'inizio per una fortuna penso a una famiglia che mi ha sempre seguito mi ha sempre insegnato tantissime cose e questo per una persona non per il calcio per una persona uomo un ragazzo è fondamentale è un po' di timore è un po' di timore è un po' di timore è un po' di timore